Il vantaggio ambientale dei prodotti si traduce anche in un vantaggio competitivo nei mercati. È questo il messaggio lanciato dal Ministro dell'Ambiente Corrado Clini, in occasione della conferenza L'Italia che sceglie l'ambiente, che si è svolta a Roma, dove è stato presentato il programma del Ministero che prevede la valutazione dell'impronta di carbonio. In particolare il programma prevede accordi volontari con le aziende, un bando per le piccole e medie imprese e la cooperazione internazionale. Una bellissima esperienza, siamo finora in partenariato con oltre 100 imprese italiane, la nostra partecipazione alle imprese si estenderà in quest'anno, abbiamo aperto un nuovo bando per invitare le imprese a partecipare e nello stesso tempo abbiamo messo a disposizione un fondo per la concessione di crediti a basso tasso di interesse per le imprese che dopo aver calcolato la loro impronta di carbonio intendano investire nei processi produttivi per ridurre in particolare il consumo energetico. Tra i brand che hanno sottoscritto l'accordo volontario troviamo Pirelli e Casberg. La nostra creazione di valore si fonda anche su pilastri, non concetti, di sostenibilità ambientale e la nostra creazione di valore si fonda su un approccio molto sensibile, molto rispettoso, molto bilanciato che in ultima analisi vuol dire maggiore ricerca, maggiore innovazione, maggiore capacità di poter interagire con l'ambiente. I risultati si legano a una forte rivoluzione, un progetto innovativo nel mercato della distribuzione della birra alla spina, quindi usciamo da dei fusti in acciaio per entrare in fusti in pieti che danno una qualità di prodotto straordinaria e un impatto ambientale, anche questo assolutamente straordinario.